Voi ce l'avete un amico che non vuol mettere mai mano al portafogli? Eh? Io sì, è lui, Pio. Chi lo ci avrà da registrò? Oh, c'ha sempre delle scuse credibili, eh, per non pagare. Ed io l'ho sempre lasciato fare, che tanto alla fine pagava il pollo. Io. Cacchi, oggi qualche soldo in più dopo amici come noi ce l'avrà pure. Ecco, adesso è qui mentre prende tempo. Ma oggi non scappa, eh. Di nuovo prendi caffè. Dai, prendi caffè, no? Di caffè da una grande, sì. Ma abbiamo pagato, Pio? Che ti parla? C'ha sempre una tasca con gli stessi spiccioli. Sì. 20 euro. 20 euro della benzina, la benzina. Ha sempre in tasca degli spiccioli, perché guarda lì mi sono rimasti questi. Oppure dice, ho la carta. Adesso vediamo se riusciamo almeno a strappargli un caffè, però è lì che parla. Pio il caffè. Cioè, se ne fotte proprio niente. E' là che ci fa aspettare il tempo. Prima ci fa aspettare per una telefonata chilometrica e poi se la canta prendendo tempo. Ecco, altre cinque minuti. Voglio maa, e la campanella, voglio maa, e la salandina, e penso che, voglio maa. Cosa è la sagra della patata? Eh, amore. Ecco, altre cinque minuti. C'è la sagra della patata qua, ragazzi. La locandina della sagra della patata, hai capito? Benvenuti alla sagra della patata. Che ti stai adentro un... Una patata. La patatuta. Vabbè, raga, ma è incredibile che trovi tutte le scuse per non pagare il caffè. Se dici, no, andiamo all'altra parte. Lui sta teppistando. Ci stai facendo confondere. Che sta succedendo? Eh, non abbiamo male. Ho capito, non abbiamo male. Non mi reggira stasera a fare. Non lasci sto telefono. Si, lavoro. Lì, abbiamo fatto 2.000 mi piace in 10 minuti. Può bastare a passare un'estate felice, vero? Mi basta. Comunque è bella la macchina, Pio. Mi piace, arriva. Molto bella, davvero. Avete il modo da spettacolo? Diciamo solo con queste mani. Un'astra. Ah, questa è. Ah, stradecce. No, questo è un momento da riprendere, perché Pio per la prima volta vedo che tira fuori i soldi per pagare un caffè. Sì. Incredibile. Eh, sì, ragazzi. Bravo, Pio, dai. Mi stai commuovendo. Addirittura, è un momento storico. È un momento storico. È un momento storico. La mia volta che paga. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao, magari. E ora come tu? No, ce ne dobbiamo scappare, perché i ventieri erano falsi. Ciao.